Sì, no, però dovete cantare con lui. Sì, dovete cantare con me, va bene. Comunque, ora, adesso ormai, cioè, vi siete sciolti, avete fatto le domande, la finitezza è andata via, giusto? Quindi adesso sconti, chi ha proprio una musica, va bene? Siete pronti? Te creo, ti credo, la conoscete? Sì, 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 sì. No sé si decirlo o sé si callar, qué es esto que siento tan dentro de mí. Mientras algo me hable de ti, mientras algo me sigue en mí, Encontré las respuestas a mi soledad, así que mi vida es soñar. Mientras algo me saucer sama. Stefano, te creo, Stefano, te quiero, te quiero da ti chino, più paura y amai a ti, âr Pero el monte, call it grave, oh, G. Non so se va bene, non so se non va, non so se taccere o dirtelo già. Bravi ragazzi! E ora, tutti insieme, è il mio mondo, siete pronti? Siete pronti voglio sentire urlare, va bene? One, two, three, two. Ora sai che io non intendo lo che passa, non si fa cose, non c'è tempo para nada. Mi metto un piccolo andanti, posso andare avanti, ma ora sono stanco, non aspetto più. E vuelvo a despertar, è il mio mondo, siendo lo che sono. E non voglio parlare, in un secondo, mi destino è sui. Finalmente lo so, ascolterò tutto ciò che trovo, tutto, tutto, finalmente lo so. Devo continuare. Ora sai che io non sento, lo che sento va cambiando, e sento che abrò fuertà. E non voglio parlare, in un secondo, mi destino è sui. E non voglio parlare, in un secondo, mi destino è sui. E non voglio parlare, in un secondo, mi destino è sui. Bravi! Bravissima Giada! Bravissima Giada! Bravi! 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 chi dà l'anima poi ai brani che questi ragazzi interpretano. Sì, diciamo che è una sorta di crescita insieme, per esempio io ero conosciuto, giuro X Factor, io ero contro, giuro, della nostra squadra, però devo dire che lui ho riconosciuto subito l'X Factor, c'è proprio questa cosa di comunicare, noi abbiamo andato in Spagna, noi abbiamo andato in Cina, cioè la cosa importante è riuscire in qualche maniera a comunicare sempre, questo penso che sia il suo grande merito. E quindi cosa stiamo facendo? Un CD parisano, come diciamo noi? Stiamo lavorando, stiamo cercando dei pezzi, delle canzoni, che sia una cosa più importante riuscire a identificare delle canzoni tipo queste qui, che appena senti già dai cantini, io penso che sia la cosa più importante per un artista, lui è il pilota, adesso ci vuole la Ferrari, la Ferrari è la macchina, lui esce la macchina, vabbè adesso non ho cambiato di queste due, io la porto, io la faccio fermata, dobbiamo sentire, un bravo, un bravo, un bravo, un bravo. Un bravo. Un billet di falso.